Buongiorno, good morning Milano 706, ben ritrovati qui su Crystal Radio Milano 96.2 FM, DAB Plus e tutto quello che poi avete in casa per poterci ascoltare. Siamo praticamente ovunque, tranne che nel microonde e nel bollitore per il tema, per il resto siamo veramente ovunque voi vogliate. Avete un'app, avete un cellulare, abbiamo la app, avete un computer, abbiamo il sito, insomma veramente dove volete noi ci siamo. E quindi buona giornata a tutti, oggi abbiamo detto è il venerdì, venerdì 19 aprile, thanks god is Friday. E quindi benvenuti davvero a tutti quanti, anche questa puntata che va avanti come tutti i giorni fino alle 9. Quest'oggi nella seconda parte avremo Silvia Gatti qui con noi, insomma come sempre tante notizie, giornali, infotraffico, luce verde appunto che ci darà la situazione del traffico e soprattutto i vostri, i vostri whatsapp al 331-785-3555. Iscrivereteci, raccontateci un po' quello che state pensando di fare oggi o che avete fatto ieri o che avete magari intenzione di fare questo weekend, weekend soleggiato così sembrerebbe con temperature leggermente in discesa rispetto a quelle della scorsa settimana, ma comunque dovrebbe tenere il bel tempo e quindi cerchiamo di insomma tenercelo bene questo weekend. Domani vi ricordo ci sono i Milano Non Profit Awards invece, domani mattina saremo in onda su Milano All News, in diretta dal Teatro Guanella dalle 10 del mattino per premiare le grandi eccellenze del terzo settore, del non profit e del sociale di Milano. Being Like This, Megan Trainor, 7 e 10 di oggi, venerdì 19 aprile, vi ricordo ancora il nostro numero di whatsapp 331-78-53555, potete scriverci sulla app, c'è anche il pulsantino di whatsapp che non dovete neanche pensare al numero, schiacciate e arriva il messaggio. Comunque siamo qui a raccontarvi un po' di notizie, a leggere un po' dai giornali e leggiamo da Repubblica Milano una notizia che spesso riportiamo perché insomma il Comune dà dei dati, l'assessorato ai servizi civici di Gaia Romani dà questi dati e quindi noi li andiamo a ripescare dai giornali. Repubblica Milano, come cambia Milano? La città dei single, il 57% delle famiglie è di una sola persona, età media 48 anni e le nascite continuano a calare. La città, vista dall'anagrafe, i residenti stranieri sono il 21%, un neonato su quattro non ha origine italiane, solo il 23% delle coppie si sposa invece in chiesa e per 2.000 bambini è stato scelto il doppio cognome. Un po' di numeri, un po' di dati, al momento la popolazione si attesta su 1.417.600 abitanti, distribuiti in 783.000 nuclei familiari, di cui il 56%, virgola 7, è composto da una sola persona, quindi una città fatta di singoli, diciamoci la verità. Quindi ovviamente qui c'è da rivedere, quindi anche i supermercati, le monoporzioni sono ormai all'odio del giorno, se il 50% del tuo pubblico deve comprare quella roba lì, insomma è importante. Più donne che uomini a Milano, le donne superano di poco, gli uomini, siamo a 51,1% di donne contro il 48,5% di uomini, pensate. Stranieri, 21% percentuale che aumenta se si guardano i nuovi nati, pensate che 1 su 4 è di origini non italiane, ma nato comunque appunto in Italia. 9.400 sono stati i neonati arrivati a Milano nello scorso anno, cioè nati nel 2023, 10% in meno rispetto a quando, non c'è scritto però, una riduzione progressiva, con una riduzione progressiva del 10%, non so in quanto tempo, però vabbè comunque negli ultimi anni sicuramente di questi 9.400, 2.000 lo scorso anno hanno chiesto di essere registrati, cioè non loro credo i genitori, hanno chiesto di essere registrati con il doppio cognome. Quali sono i nomi più in voga a Milano? Di tutto ragazzi, l'anagrafe ha già tutti i dati possibili e immaginabili. Edoardo e Tommaso per i maschietti, quindi Edo e Tommy sono i due nuovi nomi milanesi, e Sofia e Ginevra per le bimbe, quindi la Ginni e la Sofi, ok? Così, sono i nuovi, quindi fra 20 anni sentiremo parlare della Ginni, della Sofi, di Edo e Tommy, capito, saranno i giovanotti che fra 18-19-20 anni saranno quelli della Movida milanese, chissà dove sarà la Movida milanese fra 20 anni. Comunque, ci si sposa a Milano, sempre, ma sempre meno in chiesa, molti in comune. 2767 i matrimoni venuti nel 2023, a cui dobbiamo aggiungere 370 unioni civili, va bene? Quindi insomma, anche quello c'è a Milano, insomma, un bel numero, anche se comunque in callo, va bene, rispetto agli anni precedenti, anche se in realtà in aumento rispetto agli anni del Covid, perché ovviamente lì si è affermato tutto, quindi insomma c'è stato un po', c'è ancora un po' la coda lunga di quelli che devono recuperare da quegli anni. Stroma è formidable, pensate, sono passati già più di 10 anni, era del 2013 questa canzone, e pensate voi che cosa non è stato, mamma mia, ve lo ricordate quando poi è andato a Sanremo a cantarla? No, vabbè, è qualcosa di stupendo, cioè è stato veramente un bello. Vi ricordo anche il video, se non l'avete mai visto, il videoclip di questa canzone è bellissimo, girato nelle, una delle piazze principali di Bruxelles, ricordiamo appunto che Stroma è belga, quindi girato diciamo a casa sua, dove lui in realtà incomincia a cantare, imprecare ad alta voce come fosse un ubriaco in mezzo alla strada senza avvertire nessuno, quindi la gente si preoccupa, non lo conosce, non era ancora così famoso, anche se in patria un po' lo era, infatti alcuni poi pian piano lo riconoscono e non capiscono però, non capiscono cosa stia succedendo, nel senso che fate conto, 2013, non c'era ancora tutto questo movimento di tiktoker, youtuber, social, che poteva magari così far capire subito che c'era una performance, ok? Non è una performance, ma sembrava veramente che avesse sbroccato Stroma e tant'è che finì anche sui telegiornali quella sera, la gente non capiva cos'era e poi qualche settimana dopo uscì il videoclip che ritraeva uno Stroma e cantare proprio in mezzo alla strada come fosse appunto disperato nella sua canzone. Se lo trovate andate a cercarlo su YouTube, formidabile videoclip, lo trovate molto molto interessante, un artista che secondo me sottovalutiamo ancora troppo perché è davvero un grandissimo grandissimo artista. Torniamo a Milano invece, torniamo a Milano perché ci sono voluti cent'anni, ma ce l'abbiamo fatta. Queste le prime parole di Marina Brambilla, la nuova rettrice dell'Università Statale, è la prima donna a guidare l'Ateneo e bene sì, nell'anno del centenario della Statale anche un ottimo risultato per le nuove elezioni che hanno appunto messo Marina Marzia Brambilla a capo dell'Ateneo milanese. La cosa interessante, perché ha vinto il balottaggio con un 60 passa per cento di preferenze, ma la cosa interessante è che in questo momento le tre università pubbliche di Milano, Statale, Politecnico e Bicocca, sono tutte e tre guidate da delle rettrici. Ebbene sì, sono tre le rettrici che guidano gli Atenei milanesi. La sua prima frase, la frase è stata molto interessante, ha detto ci sono voluti cento anni, ma ce l'abbiamo fatta, questo appunto il commento non privo di emozioni della nuova rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Marzia Brambilla. Quindi tanti auguri alla rettrice, complimenti appunto anche a tutto l'Ateneo che ha voluto fare e dare questo segnale. Il segnale è veramente importante, se pensate che davvero le tre università pubbliche della città sono tutte e tre guidate da tre donne, la Bicocca da un bel po', ormai, Giannantuoni appunto da ancora un bel po' che guida l'Università Bicocca, Politecnico se non sbaglio l'anno scorso più o meno appunto con la nuova elezione del rettore è stata redetta una rettrice e adesso appunto la Marina Marzia Brambilla, la dottoressa Marina Marzia Brambilla appunto, nuova rettrice dell'Università Statale di Milano. Auguri e buon lavoro, auguri anche a tutti i ragazzi e ragazze che passano di qua che sono appunto della Statale che oggi possono festeggiare insieme alla magnifica rettrice. Sarà così, no? Andiamo avanti, musica You've Got It, Simply Red. E questo è il Simply Red, You've Got It, i semplicemente rossi. Ogni volta devo dirlo, non so perché. C'ho questa cosa che devo sempre dire che Simply Red con la roba lì, non so, sono problemi che uno ha. Comunque, adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa, andiamo con qualche consiglio per gli acquisti, mi raccomando ascoltatevi, iscriveteci al 331-7853-555 come ha fatto Alberto che dice un saluto dal vostro ascoltatore del primo mattino, buongiorno e buon weekend a Fabio e a tutti i cristallini. Sono ancora influenzato, oltre febbre e mal di gola si è aggiunta la tosse, ma teniamo duro. E noi teniamo duro con te, dai Alberto vai che ce la fai anche questa mattina. Andiamo avanti noi, musica, e poi torniamo qui. E questo era Vasco Rossi con Vivere, alle 7.39, ben ritrovati e bentornati qui su Cristal Radio Milano, grazie ancora dei Whatsapp. Alberto poco fa appunto ci aveva amato il suo Whatsapp dicendo che è ancora influenzato, oltre a febbre e mal di gola si è aggiunta anche la tosse, ma teniamo duro. E poi aggiunge anche se comunque i venti di guerra che arrivano dal Medio Oriente portano preoccupazioni e abbassano l'umore. Ecco, questo è il problema di rimanere a casa malati, che si guardano tutti i telegiornali possibili e immaginabili, la tv ti dà solo con le notizie, quindi effettivamente già comunque non è bello sapere quello che sta succedendo là. In più ti vieni inondato di queste notizie, sicuramente in più sei ammalato, diciamo che l'umore non è semplice di tenerlo su. Ci proviamo noi, va bene? Ci proviamo una mattina qui con un po' di musica, un po' di notizie, un po' qua e là, insomma, curiosità sulla nostra grande città di Milano. In diretta, sempre qui su Crystal Radio, allora, leggiamo da Repubblica Milano un articolo in cui si parla di raccolta dei rifiuti a Milano. Sulla raccolta dei rifiuti a Milano i municipi danno i voti ad AMSA. Bene i cestini, male strade e marciapiedi, ma c'è anche tanta inciviltà. La lamentela più frequente riguarda i sacchetti abbandonati, e poi viene giudicato insufficiente anche il lavaggio, senza obbligo di spostare le auto in sosta. Quindi i municipi hanno dato un po' i voti ad AMSA, promossa AMSA intorno allo svuotamento dei cestini, bocciati invece sullo spazzamento di strade e marciapiede. Questo si legge nei commenti alle dirette Instagram del sindaco Sala, così come in alcune social street. E tutto questo lo confermano anche i municipi, dopo un periodo in cui ne erano stati tolti parecchi, dall'anno scorso sono tornati i cestini nelle città. E ovviamente le mini discariche ammucchiate ai loro piedi sono diminuite sensibilmente, perché ci sono più cestini in città. Almeno questo dicono, io devo dire che da questa zona qua non ne ho visto uno di cestino nuovo. Perché poi mi ricordo che all'incirca verso Expo, più o meno lì, era stata inondata la città di cestini, verdi, quelli grossi, io credo che la gente sia separata a casa, perché non ce n'è più uno in giro, non ce n'è più uno in giro, non so più che fine mi hanno fatto. Noi abbiamo uno, per fortuna qui, che è gestito dal nostro fruttivendolo della via, che se ne prende cura lui, credo, non so bene come funzioni, e allora lì c'è. Noi mi ricordo che a ogni angolo era stato messo un cestino, a volte anche fin troppi, che c'erano cestini che tu non riuscivi a passare perché c'erano i cestini. Però ad esempio me ne sono accorto quando ho dovuto aiutare un'amica a tenere il suo cane, ok, lei non ci aveva ammollato qua, l'ho portato in giro, questo ha fatto le sue robe, è tirato su da buon padrone civile di città, e poi mi sono tenuto il sacchetto in mano, stile tricche ballacche, e non sapevo dove metterlo. Alla fine mi sono portato a casa, lo buttato nell'umido di casa mia. Però nel senso, capite che non c'è un cestino, ci sono quattro vie e non c'è un cestino, in una zona dove ad esempio due giorni a settimana più o meno, anche se ormai sarà uno solo, si va allo stadio. Uno solo sì, perché avete sentito, il Milan è uscito dall'Europa League, quindi niente, basta, non ci sarà più l'Europa League per quanto riguarda il Milan, però ci sono appunto il campionato, quindi insomma tutte le altre, ci sono i concerti, adesso arriveranno, già a fine maggio iniziano, già a fine maggio iniziano i concerti qui in zona, quindi attenzione. E non ci sono i cestini, quindi mettiamoli i cestini. Anche se dite che sono ricomparsi, così sembrerebbe, a noi qua, delle quattro vie intorno al nostro studio, zona via Novara, quarto Cagnino, per intenderci, non ci pare che sia così. Quindi così, lo diciamo. So che utilizzo del mezzo pubblico per mezzo privato, per scopo privato, però insomma, così almeno ci sembra. Va bene? Dai, andiamo con un po' di musica, adesso un po' di energia. E dai, un po' di energia così che si tira super bene e iniziate la giornata nelle migliori delle maniere, sgambettando e sculettando al ritmo di Cool and the Gang con Celebration. Celebration, Cool and the Gang. Cosate, eravamo distratti, posso dirlo. Eravamo distratti perché stavamo ascoltando la musica. Ci succede anche a noi, ogni tanto ci piglia bene e quindi andiamo avanti così. Allora, Milano Today invece, raccontiamo il bando, i nuovi bandi emessi dal comune per degli spazi appunto che si liberano in città. E allora, le ex cucine economiche e 18 box confiscati, ecco i nuovi spazi a bando del comune di Milano. Le ex cucine economiche cos'è? E' quella stabile in via Montegrappa, vicino alla fine di Milchior e Gioia per intenderci, più o meno, ok? Quella casa fatta di mattoni rossi e bianchi, diciamo. Detta così effettivamente non è facile descriverla. Datevela guardate, facciamo prima. È arrivato comunque, quella era una... stata costruita nel 1883, pensate, come mensa, più o meno, ok? Della famosa appunto cucine economiche. Adesso è possibile appunto fare un bando e vedere se si può accaparrare quella roba lì. 455 metri quadri per uffici, ad esempio. Poi ci sono anche però dei box confiscati alle mafie, ad esempio in via Carlottore 24, in zona Viglio, si trovano 18 box aggiudicabili in locazione al piano interrato all'interno di un condominio privato. Si tratta di beni confiscati dalla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Milano. L'amministrazione ha deciso di metterli a bando, vincolando i proventi dei cani a finalità sociali, come consentito appunto dalla normativa. A bando ha anche 9 posti auto all'interno di diversi condomini privati nei municipi 4 e 7 e anche un'unità di 79 metri quadri destinata a bar in via Cervantes 9 all'interno appunto del parco Sempione. Un negozio di 83 metri quadri in via Morgantini e un chiosco in piazzale Baiamonti. Queste sono appunto le nuove disponibilità per i bandi che ha deciso Comune di Milano di mettere. Sul sito potete trovare la call for ideas, la call per i bandi e se avete delle idee sociali ad esempio sicuramente avete più voti, più punti prendete nel bando e potreste aggiudicarvi un posto del genere. Come dite, gratis? No, non sono gratis, poi dovete pagare l'affitto. Calmierati a volte, non proprio prezzo di mercato, però insomma non è proprio l'affare del secolo, ve lo dico. Non è però, insomma, si può pensare di dare un proprio contributo alla città anche pensando ad esempio a situazioni sociali che possono andare a inserirsi all'interno di queste zone, di questi luoghi e ad esempio anche e soprattutto questi famosi box 18, pensate, 18 box confiscati alle mafie in via Carlo Torro del 24 ma attraversa appunto lì sul Naviglio per intenderci comunque se siete della zona e siete di Milano diciamo che da quale parte lì può essere appunto interessante magari per associazioni, fondazioni che hanno da sviluppare le proprie attività sociali nei vari territori. Andiamo avanti con la musica, passiamo a Loredana Bertè con un classico della musica italiana. A te Loredana. Non è una signora così canta Loredana Bertè con non sono una signora che però insomma non sarà una signora ma sarà una grande artista e cantante Loredana. Ah, se sei tanto tanto non sei solo una signora sei tanto tanto di più per noi e per tutti quanti. Grande, grandissima Loredana Bertè alle 7.54 minuti qui su Cristal Radio poco prima della nostra pausa del giornale radio e dell'avvento della nostra ospite che arriverà qui in studio dopo il giornale radio e dopo il Cristal History Silvia Gatti appunto avremo una mattinata con lei e sentiremo di che cosa ci parlerà quest'oggi insomma tenete pronte le orecchie e abbassate il volume anche perché sapete che insomma l'avvisa ah se l'avvisa però l'avvisa me l'avvisa ben quindi le brava, le brava, le brava la brava, la ragazza dai andiamo con un po' di musica ancora e oggi, questa mattina grandi classici della musica italiana andiamo con il maestro il maestro è lui come chi è? come chi è il maestro? Franco Battiato Franco Battiato alle 7.55 minuti qui a Good Morning Milano Eh sì, è così questa qui quando sembra che sta per finire invece riparte Born in the USA Bruce Pristin il nostro Crystal History delle otto ma adesso dobbiamo dare il benvenuto alla nostra ospite che non sa di avere una sigla sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta con la faccia a tv più a radio che a tv più a radio diciamo cos'è? i baffi non ce li ha confermo che non ce li ha stamattina non sono proprio blu però sono verdissimi se vi piace chiamatemi Silvia Gatti no vabbè ci sono dei no io sono scioccata stamattina non ti aspettavi no no Fabio grazie direttore grazie cosa ho fatto per meritarmi una sigla così Silvia Gatti la nostra super radio gattona grazie qua si va poi in un altro campo vediamo bene tu te la ricordi questa sigla che abbiamo mandato beh sì purtroppo sì perché sono dell'83 non volevo dirlo infatti volevo dire da questo si capisce se e di che età sei buongiorno buongiorno a tutte a tutti vestitevi da cipolla ragazzi e ragazze un freddo stamattina ma che è? non so io sto bene sì perché tu sei qui dentro io arrivo dall'altra parte della città un'altra cosa precipitazioni addirittura di grandine e neve a bassa quota previste nel weekend quindi mettete via le scarpe aperte le open to eccetera eccetera perché anche se io ho letto di tutto io ho letto di tutto in realtà c'è chi dice che ci sarà il sole c'è chi dice che ci saranno alte temperature c'è chi dice che ci saranno basse temperature c'è chi dice che grandinerà quindi mancano le cavallette beh c'è anche chi dice che Napoli verrà ricoperta da 30 metri di cenere ma lasciamo stare tutto questo weekend oppure no in futuro salutiamo tutti i napoletani all'ascolto facciamo le corna e questo video è comparso sulla tv svizzera ora lo possono visualizzare solo i proprietari della pagina dove è comparso vedi tu ah ok niente gomblotto comunque come va come la va come la va bene bene e te come stai tutto bene fuori salone sopravvissuto tu che hai attraversato la città sopravvissuto al fuori salone o cosa tranquilla non c'era tanto casino e posso dire una cosa ai milanesi e quelli che abitano nei dintorni soprattutto conoscete l'Ambratte la periferia est di Milano negli scorsi anni era diventato veramente un polo molto interessante per il fuori salone importantissimo a Milano il fuori salone ma anche tutto quello che c'è intorno al salone del mobile appunto chiamato fuori salone c'erano camioncini che vendevano street food c'erano DJ set in ogni negozio che affittava il proprio spazio zona ventura zona ventura ventura district niente ragazzi niente da anni io sono dispiaciuta si parcheggia è bene posso dire che io non sopporto il fuori salone però mi spiace era vivo comunque tutti lavoravano come si suol dire signora mia però mi dispiace un pochino perché era fighissimo ad esempio a Lambrate c'è un'antica villa villa in Vernizi e i proprietari ad esempio aprivano in quell'occasione il giardino c'era non lo so il track della California Bakery un DJ che faceva DJ set una biciclettina con un tettuccio che faceva i drink era bellissimo veramente quanta milanesità in questa immagine si cuccava si cuccava allora diciamo il problema è quello il problema è sempre stato quello in realtà non c'è più fauna da attingere ma era più facile col fuori salone ecco si scroccava i drink scroccati non ve dico ricordiamo che ieri Andrea Kerchi ci ha dato al telefono che è riuscito a scroccare un cuscino scusa è andata un'installazione ho sentito è andata l'installazione e gli hanno offerto ma lei è un giornalista si registri ecco gli omaggi e gli hanno dato un cuscino vabbè dai devo tornare così gli prendo anche il cuscino per sua moglie due cuscini ma sono quelli per la cervicale sa com'è signora mia indagheremo indagheremo ok va bene comunque il fuori salone appunto ci sta ammorbando questa settimana e così è dobbiamo ottenercelo buono invece sono tanti gli argomenti di cui oggi vuoi parlare facciamo così facciamo l'indice dei temi che oggi andremo a toccare insieme a Silvia Gatti e poi andiamo con un po' di musica ho scelto della roba difficile dunque l'obsolescenza programmata wow e il fenomeno non esagerare e il fenomeno della shrinkflation 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 questa non sapevo neanche che fosse così cioè so cos'è perché me l'hai spiegato ho capito che cos'è voi sapete cos'è la shrinkflation shrinkflation un mix fra shrink e inflation ah vedi già non so cosa dire shrink non so cosa dire inflation mi creano una parola mi creano una parola insieme vabbè dai andiamo con un po' di musica Maroon 5 payphone a proposito di cose di obsolescenza programmata telefoni cellulari payphone vedi capisci per essere un uomo una nuova marca di telefono che bravura payphone Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa ma che lo Wiz Khalifa è quello del Bru Khalifa no no poi te lo spiego non è lo stesso non è lo stesso non è il cantante ref più alto del mondo no direttore in quel caso no non credo va bene andiamo avanti musica payphone Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa comunque bravo per essere un cattacielo proprio bravo proprio bravo sto califa non riesco a starle dietro direttore c'è sempre lì si fa le foto sullo sfondo quando vai lì fai finta di fare con un attore di Pisa che cade giù tutto bene hai dormito? no ecco no per sapere mica come le ragazze che hanno fatto della redazione che hanno fatto balera ieri sera ieri sera in balera sono andate sono andate via prima loro degli anziani ma con quanti anziani è dietro ecco la domanda e vabbè allora 3317853555 un saluto alla splendida e simpatica Silvia sono io? si scrive un sordo cieco vabbè me ne vado me ne vado resto Alberto ciao Alberto che però è malato ti dico questo quindi ha i sensi un po' alterati oggi non è una novità per molti che conosco niente poi mette sotto anche il suo paypal per dargli soldi per il messaggio bello che ti ha scritto va bene ho qui 5 euro poi li carico e te li mando no invece Silvia Gatti qui con noi appunto che ci porta anche un po' di notizie dal mondo e anche dal suo vissuto perché oggi vuoi parlare di un tema che nasce da un tuo vissuto ma poi in realtà è un tema di quelli che se ne parla tanto in giro sì assolutamente è una gigantesca truffa a cui fruffra la fruffa e fai la radio a cui tutti siamo sottoposti da anni più o meno coscienti sì infatti non è anche così truffa ormai allora è l'obsolescenza programmata che mi fa sclerare onestamente quando vedo queste discariche colme e di vestiti ma anche di oggetti tecnologici è tantissimo vi è mai capitato che a un certo punto una cosa smetta di funzionare dopo un mese due mesi debotto o esplodati così debotto quella è l'obsolescenza programmata del tipo ho pagato un frullatore e non dico frullatore a caso 20 euro funziona benissimo neanche hai finito la frase che non funziona più sappi signora mia signore mio che quella roba lì è stata programmata per non funzionare più non sei tu che sei maldestro o maldestra capisci non c'è stato uno sbalzo così di corrente no quel frullatore lo puoi usare poco perché perché loro vogliono che te ne compri anche a basso prezzo e in una vita quanti ne hai comprati a 20 15 18 euro e 20 guarda una marea fate il calcolo ma perché dico frullatore caro dire perché il tuo frullatore invece funziona perfettamente posso dire mullinex allora tanto che ci esiste ancora ci esiste ma ho questo frullatore dai colori e dallo stile vintage assolutamente quasi un pezzo veramente da arrendamento da museo che regalarono ai miei genitori per il matrimonio perché ai tempi era il 79 servivano queste cose mica fateci il bonifico per il viaggio ma bah eh saluto gli sposini e le sposine che si fanno fare bonifici per i loro raggi ho appena fatto uno il 27 aprile ho un matrimonio ho appena fatto il bonifico tutto bene almeno se manierà bene c'è l'open bar che non lo so però credo di sì ma soprattutto loro se ne vanno in Giappone quindi sono contento e noi invece qui a buttare sangue comunque no no ma anche io tantissimo e nulla questo frullatore venne regalato ai miei genitori funziona Fabio funziona ancora perché attenzione non è che la scienza programmata è una roba dove ci mettono dentro un demone che ad un certo punto si utilizzano materiali più bassi di qualità le guarnizioni ad esempio si utilizzano di una gomma che sai che dura due anni tre anni quando ti va bene e poi sciopa e quindi quello invece nelle costruzioni degli oggetti negli anni settanta si usavano di qualità di qualità più alte c'è anche da dire che forse si usavano anche delle gomme che adesso forse è impossibile produrre sì dal punto di vista ambientale ma lasciamo perdere esatto però in realtà pensa allora quell'oggetto in sé ha inquinato di più quando è stato prodotto magari di quello di oggi sì ma quello di oggi inquina di più perché lo devi cambiare dieci volte esattamente fra l'altro essendo un pezzo che mi piace molto purtroppo ho rotto la parte il vaso il bicchierone con il vetro non ci mandano niente ok non te l'hanno detto io pensavo più le querele che ci mandano vabbè ecco state pur certi che se trovate il pezzo di ricambio lo pagate una cifra e lo pagate anche perché ci vuole qualcuno che sappia dove metterlo vi faccio un esempio una nota marca di aspirapolveri e asciugacapelli avete capito di che sto parlando se avete un guasto all'aspirapolvere vi propongono di non aggiustarlo neanche ma con una piccola cifra di darvi uno nuovo fanno prima così e dove finisce quell'aspirapolvero in un paese del terzo mondo in una in una discarica sicuramente vogliamo aprire magari dopo un pezzo una parentesi anche sui vestiti sul continuo uso di vestiti che ci fanno credere di dover acquistare per essere fighi sì 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 quando invece ve lo diamo la notizia fate schifo sempre mentre invece io e Fabio anche cunciati così la mattina andiamo everywhere dappertutto dappertutto andiamo avanti con la musica invece di due che sono fighi davvero sia insieme a Sean Paul Duffy con Mercy 8 e 33 minuti 8 e 33 minuti faccio fatica a dire la 33 facciamo che ve lo dico un minuto che ora sono che facciamo prima di là fanno il tiktok ah vedi andiamo no 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 sto di qua che è meglio guarda sto qui con il mio pubblico 3317853555 grazie dei messaggi di whatsapp che state scrivendo Silvia allora abbiamo parlato di obsolescenza programmata e appunto di come insomma non si scappa anche se devo dire la verità notizie danno che alcune aziende incominciano invece a capire che insomma va bene tutto va bene il guadagno e tutto ma far vedere che il tuo prodotto magari sia un po' più ecocompatibile quindi magari non così programmata l'obsolescenza può portarti a dei miglioramenti soprattutto nei clienti che magari dicono ma però quell'azienda è meglio di un'altra quindi aspettiamo che magari ci arrivino anche i big ovviamente sono sempre gli ultimi ad arrivarci quelli più grossi ovviamente quindi aspettiamo che ci arrivino anche i big e magari chissà che riusciremo a debellare questo grossissimo problema dei rifiuti soprattutto sì rifiuti l'ambiente ma anche un po' la questione di coscienza delle persone stiamo veramente prendendo sempre più coscienza collettiva del fatto che ok non ci saremo noi magari fra 100 200 anni forse non si sa mai però insomma anche per chi abiterà questo pianeta un domani è meglio forse preservare qualcosina anche se alcuni dicono che siamo già in ritardo e niente e anche sui vestiti spesso è così no? perché insomma c'è anche questa cosa qua in questo senso alcuni big grandi marche della cosiddetta fast fashion hanno iniziato a contrastare questo spreco assurdo che invece continua a esserci in altri marchi cinesi ho detto cinesi ecco non facciamo i nomi esempio una catena ha deciso che se tu ordini un capo arriva in negozio lo fai via web chiaramente l'ordine questo capo arriva in negozio e lo lasci lì non vai a ritirarlo paghi un tot c'è una sorta di piccola vogliamo chiamarla multa o comunque c'è una somma che tu paghi in modo da essere motivato ad andare a ritirarti questo pacco perché intanto il packaging il trasporto la persona pagata per portarlo dal magazzino al negozio insomma c'è gente che dice tanto è gratis e no allora questa catena è una catena che comprende più marchi di fast fashion poi ad esempio c'è il settore riparazione sempre all'interno di due in particolare marchi non li posso dire però comunque li vedete qua a Milano in centro in tutti i centri commerciali c'è una sezione ripara cioè una sorta di sartoria che ti chiede di portare nel negozio a te più vicino i tuoi pantaloni la tua gonna scucita la tua giacchetta che ha perso il bottone e te la ripara ad un prezzo fra l'altro sostanzialmente modico non apriamo la parentesi e ma così non si va più dai sarti nelle botteghe ve prego questa è un'altra cosa lasciamo stare perché anche lì è vero però è un'iniziativa per evitare che le persone dicano lo butto tanto costa poco ne prendo un altro e ci sono anche poi dei piccoli bar delle piccole caffetterie in giro per l'Europa pensa che si sono riuniti anche sotto a un grosso gruppo su internet trovate tutte le informazioni che si hanno come obiettivo il riparare tutti insieme sorseggiando un caffè senza internet senza telefonini biciclette vasi piatti monopattini gratuitamente magari al prezzo della consumazione e pensa vicino a questa riparazione c'è anche l'obiettivo e la voglia di insegnare a riparare da soli questa cosa cioè ora te la riparo io ma tu torni a casa che la prossima volta sai fartelo da solo sì poi l'assurdità è che siamo nell'era delle cose assurde sapete che adesso c'è la moda delle kintsugi sai cos'è? no l'arte di riparare le cose rotte con l'oro con la roba giapponese ma ho scoperto che ci sono dei posti dove tu vai rompi quello che hai per poi ripararlo col kintsugi io dovrei essere tutta d'oro se così fosse per le persone tu hai una roba intatta la spacchi per farla poi cioè non è quello kintsugi c'è quel fascino l'abbiamo un attimino le rughe d'oro diciamo e invece no vediamo un attimino così su questo tema però del fast fashion vi consiglio oggi l'abbiamo già nominata due volte la RSI la tv svizzera ha fatto una bellissima indagine io ho avuto la fortuna l'anno scorso ottobre ero lì e quella sera c'era la tv svizzera questo dossier una sorta di report loro fatto benissimo su proprio la fast fashion e anche su proprio questa cosa del metto ridò i miei capi in giro loro poi hanno messo degli artag dentro ai capi e hanno seguito la cosa e la cosa pazzesca è che dopo due settimane alcuni capi hanno fatto varie marche alcuni capi erano già andati oltre l'oceano altri erano rimasti in Europa ma avevano tipo cambiato sei magazzini quindi in realtà comunque infatti il camion che portavano avanti e indietro non esiste dobbiamo ripigliarci tutti dobbiamo ripigliarci tutti ti fanno pensare ti fanno credere di volere quella giacca in più quella maglietta in più e io ci casco e attenzione non sto facendo veramente la ramanzina a nessuno io ci casco vabbè io mi metto una cosa esco e vado bene e invece un filo di Chanel numero 5 e basta sì certo ma vogliamo ricordare però che la tv svizzera non sono il signor Rezzonico e Aldo Giovanni non sono neanche quelli ma allora mi dai l'asset per ricordarvi anche che però esiste una bellissima serie che nasce sulla tv locale del Varesotto ma poi importata sulla tv svizzera che si chiama Frontaliers andate a vederlo veramente dove si prendono in giro da soli ed è la storia di un Varesotto che deve andare un Rezzonico del caso che deve andare a lavorare in Svizzera tutti i giorni e il doganiere svizzero che fa lo svizzero non si può passare qui più o meno così vi dico solo che dalle parti appunto di Locarno così fanno le serate a teatro tu stai scherzando io vado Frontaliers io ho il dvd mi hanno stato regalato il dvd io vado c'è Frontaliers guardatelo cercatelo cercatelo su youtube fa impazzire fa morire da ridere andiamo avanti con la musica andiamo avanti a camminare come degli egiziani sì walk like an Egyptian The Bengals walk like an Egyptian invece non cammina come un'egiziana ma come una di Lambrate la nostra Silvia Gatti walk like an Lambratean sì certo dopo una certa ora Lambrate specialmente in certe zone si cammina non troppo dritti ma questo è un altro discorso è venerdì si inizia il weekend non perché siamo appunto tipo sfingio così ma perché appunto i locali danno del loro meglio comunque parliamo di un altro fenomeno invece di cui vorrei raccontarci oggi che è la shrinkflation la shrinkflation è una parola bravissima che pronuncia inglese britannica shrinkflation e proprio tutta la royal family muta ecco un connubio un'unione fra le due parole shrink che vuol dire restringere e inflation che vuol dire inflazione ma bravi no vabbè ma quanto ho studiato oggi a me non vuol dire inflazione comunque inflation sì sì shrinkflation shrinkflation ci fregano anche lì ci fregano anche lì signora mia te la ricordi quella trasmissione mi manda Rai 3 che però era mi manda Lubrano sì 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 ai tempi di mia nonna è stato in questo studio Lubrano stai scherza posso baciare tutto è stato in questo studio i tavoli adoro stellino lui vabbè è vivo? no scusate che gap il signor Lubrano è vivo? è ancora vivo c'ha 92 anni ok dalla redazione fatti il 4 febbraio complimenti a Antonio Lubrano lo salutiamo Antonio perché ti è lunga vita Antonio Lubrano ok la shrinkflation che cos'è? quel anche lì è una strategia tu sei al supermercato te la dico proprio così e dici oh i miei biscotti preferiti le gocciole sì 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 Bari Bari e dici ah ma guarda il prezzo non si alza mai no torni a casa dopo tre giorni dici ma sono io che me bagno pure mia madre cioè oppure eh no ce n'erano di meno caro dire c'erano meno biscotti c'era meno pasta in quella confezione c'era meno bagno schiuma c'era meno shampoo in quello shampoo che ti chiude le doppie punte col silicone eccetera eccetera ve lo dicono le bibite quasi tutte sono passate ormai dall'ex 500 cl sono quasi tutte su a 400 cl alcune 350 ve lo dicono no non ve lo dicono non ce lo dicono scritto ce lo ok dicono con la k sulle bibite basta guardare la bottiglietta si vede che è più piccola però ti dico una cosa guardi la bottiglietta stai sicuro che in alcuni casi te l'hanno cambiata ah sì 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 te l'hanno resa più carina hanno cambiato la forma dopo cento anni e tu dici oh che bella guarda questa bella bottiglietta ecocompatibile ecocompatibile euro 33 cl cioè vabbè no comunque non ce ne accorgiamo però ci sono dei consumatori in associazioni eccetera che hanno protestato giustamente e hanno obbligato certi marchi a scrivere questa cosa ok se ci sta c'è la prima stessa dicendo vabbè se protesti uno può fare il formato che vuole però giustamente dici se cambia il formato me lo dici sì puoi fare il formato che vuoi però è quasi volutamente è un po' velato ma me lo stai facendo a posto cioè tu sai che io consumatore piglio sono le otto no sono le ventidue e meno cinque la cassiera già ti sta guardando male la cassiera già sta andando a casa e tu ciappi su come diceva mia nonna tiri su tutto e non te ne accorgi perché sei stanco sei stanca devi fare la spesa veloce passi la tua carta strisci da milanese imbruttito da romano imbruttito da palermitano imbruttito e a fine mese ti imbruttisci ancora di più perché dici ma che cavolo qua maniamo tanto ci laviamo di più o c'è qualcosa che non c'è qualcosa che non va lavarsi di più dubito non c'è nessuno che si lava di più ma non senti arriva l'estate ti prego ti prego Fabio ok ecco direttore comunque non ringraziatemi no no infatti comunque state all'occhio dopodiché possiamo farci più furbi date sempre un occhio al prezzo al litro prezzo al chilo prezzo al pezzo bravissimo perché ci sono dove uno spettro di legge sotto quindi date sempre e lo so che è una rottura di scatole si perde tempo e tutto però leggere le tiche a volte non è facile neanche quello perché non capisci dove è il prezzo ci sono frecce che ti indicano che devi girare l'angolo andare a chiedere a uno per strada dov'è i bagni pubblici della casa di fronte e poi a quel punto trovi il prezzo nascosto dietro una tavoletta però però se li trovate date un occhio nel senso che effettivamente ci sono e di fianco c'è il prezzo sempre al litro c'è il prezzo al litro c'è il prezzo al chilo ogni tanto ho trovato il prezzo al letto ma sei matto veramente ci sono perché quando costa troppo se tu mi hai mai che puoi mettere costa mille euro al chilo una roba cioè lo zafferano non c'ha il prezzo al chilo perché costerebbe una roba lo zafferano è oro è vero e quindi c'è il prezzo credo al letto se non al grammo tra parentesi loro quindi devi fare anche devi avere tempo ti ci devi dedicare invece noi se andiamo veloci comunque lo zafferano come la mette per la barba in cassa anche il prosciutto comunque costa io sono vegana non lo mando c'è il prezzo al letto vabbè sì quelle cose vengono vendute alti e sono anche molto dicevo vicino alle casse perché ci sono dei generi che vanno tantissimo nei supermercati vicino diciamo ai poli studentessi sai cosa c'è sotto chiave? no le scatolette di tonno la pasta col tonno dello studente in trasferta raga è vera è vera sì sì cioè il Leonardo da Vinci qua a Città Studi a Milano se tu vai in un iper lì in zona è il tonno sono le scatolette di tonno sotto chiave è manco un po' sono super alcolici capito? fantastico ebbè vi dice guardate i prodotti e vi dirò chi sei cioè quello è il concetto beh io guardo se c'è uno carino guardo cosa prende di spesa e vedo se è singolo no vabbè basta vabbè e dopo questo momento di tristezza andiamo con l'ultima canzone di oggi e poi torniamo qui a salutarci insieme a Silvia Gatti giovanotti mi fido di te alle 8 e 49 minuti Crystal Radio venerdì 19 aprile Good Morning Milano 8 e 53 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano qui con noi insieme a Silvia Gatti e grazie ancora allora Silvia per essere stata qui con noi quest'oggi grazie a te grazie a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e ci vediamo domani perché domani ci sono in Milano Non Profita Awards e Silvia sarà dei nostri sono lì già colazionata non vi dovete offrire niente bene 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 allora domani in Milano Non Profita Awards Teatro Guanella ore 9 e 30 prima di chiudere fatemi fare gli auguri alla nostra ascoltatrice che ci ascolta da lontanissimo pensa andiamo fin giù sotto l'equatore nella grande nazione della Tanzania dove c'è Beatrice che fa gli anni quest'oggi quindi auguri a Beatrice che da lontano ci ascolta tanti auguri che i nostri auguri ti arrivino fin laggiù fin sotto l'equatore fin nella bellissima città e paese anzi di Mbueni vicino a Dar es Salaam quindi auguri a Beatrice dopo di noi chi va in onda lo sai? no lo devi dire tu Ambrogio Curti lo conosci domani se vuoi sì lo so ci sarà anche lui Ambrogio Curti con senti questa dopo di noi la grande musica internazionale e nazionale raccontata la bravissima e competentissima voce di Ambrogio Curti le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Silvia Gatti e Fabio Ranfi al microfono grazie alla regia grazie alla produzione grazie a tutti noi ci risentiamo qui in diretta lunedì con un nuovo appuntato una settimana di Good Morning Milano ciao a tutti ciao 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 ciao